Ok Dicevo, oggi riprendiamo più o meno dove abbiamo lasciato la volta scorsa quando parlavamo di come interagire con le Philips Hue per questa prima parte della lezione e nella seconda parte vi farò vedere due esempi che non svilupperemo in classe ma vi darò come già come già fatti ma ne discuteremo brevemente insieme vi farò vedere altri due esempi di come interagire con altri due tipi diversi di dispositivi diciamo IoT che però di base usano sempre un principio molto simile ci sono delle API REST, HTTP che restituiscono informazioni tipicamente con the JSON o richiedono informazioni con the JSON quindi la stessa meccanismo che in parte vediamo per le Philips Hue con qualche piccola differenza la vediamo replicata su altri due tipi di dispositivi diversi giusto per avere una panoramica e chiudere così con oggi gli argomenti che riguardano l'interazione con il campo quindi come dicevamo l'altra volta il nostro obiettivo era creare un client HTTP per interfacciarsi con le lampadine della Philips e oggi sono tutte e tre qui che accendessero le lampadine con il color loop lo mantengono il color loop per 10 secondi e spegnessero tutte le luci noi useremo salute noi useremo direttamente le chiamate REST fornite dal bridge esiste un SDK in Java fornito dalla Philips che permette di fare cose molto più complicate rispetto a quelle che faremo noi o quelle che vi servono per il progetto per esempio o per la prima esercitazione che comprendono le scene che comprendono altri tipi di dispositivi diversi delle lampade che noi non abbiamo e che comunque non usiamo però esiste esiste ed è anche compatibile per Android il risultato e lo metterò su GitHub questo è il link il link è anche già su dir in questo repository c'è quello che abbiamo fatto l'altra volta quindi un progetto essenzialmente vuoto in cui solo il Gradle il file Gradle il build Gradle è pieno delle due librerie che ci servono e che utilizzeremo in alternativa alle lampadine come vi dicevo l'altra volta esiste un emulatore che è fatto in Java ed è possibile scaricare da quell'indirizzo e anche esse già linkato dalla pagina su dir e si comporta in maniera simile alle lampadine con alcune piccole differenze per esempio il color loop non è visibile sull'emulatore quindi riceve il comando correttamente ma non vedrete il cambiare colore sull'emulatore delle luci tutto il resto cambio di colori singoli spegnimento accensione cambio di luminosità è sopportato evisivamente è sopportato dall'emulatore nell'emulatore invece di mettere il codice di tanti caratteri che abbiamo generato l'altra volta dal bridge e che è su dir come chi come chiave è sufficiente mettere new developer tutto minuscolo tutto attaccato per ricordarci lo username che abbiamo generato in aula è quello lo useremo nel nostro software e l'API della Philips U sono a questo indirizzo developer.meetu.com e per accedere occorre come vi dicevo l'altra volta essere registrati sul sito noi l'altra volta abbiamo seguito questo getting started oggi possiamo guardare e abbiamo provato alcune API a mano dal oggi useremo l'API che ci servono direttamente in Java e quindi possiamo riprendere da dove abbiamo lasciato l'altra volta prima di riprendere visto che ho già ricevuto la stessa domanda due volte vi faccio rivedere come si crea come creiamo un progetto per questo tu sei uno ma c'è stato uno prima di te e vi faccio rivedere come si crea il progetto un progetto Gradle in IntelliJ visto che lo faremo qualche volta quindi se crea un progetto scegliamo da questo menu a lato Gradle indicando solo Java come librerie addizionali non ci servono Kotlin non ci serve altro se voi volete per le vostre cose potete aggiungerle ma per noi è sufficiente ed è necessario solo Java e si preme avanti a questa pagina viene chiesto un group ID e un artifact ID sono gli stessi gruppi di artifact ID che trovereste su Maven per esempio se voi pubblicaste lì il vostro progetto io tipicamente come gruppi di metto il nome del package quindi nel nostro caso ho messo et uniupo punto reti2 si può mettere anche il nome un nome che rappresenta un gruppo di progetti che sono collegati quindi per esempio reti2 punto esercizi per dire quelli saranno tutti gli esercizi di questo corso di reti come artifact ID il nome del progetto compilando artifact ID nella schermata successiva verrà ripreso quel nome proprio come nome del progetto su disco quindi per esempio et uniupo punto reti2 come gruppi di e come artifact ID per esempio potremmo dire ujava u trattino java in questo caso premendo next vi chiedo alcune proprietà vanno bene tutte quelle di default gradle di default quello che si scarica dentro IntelliJ e l'alternativa è usare gradle installato sul vostro computer se avete una versione di gradle installata è consigliabile tipicamente usare il wrapper quello che si scarica internamente al progetto in modo che dovunque venga scaricato questo progetto ci sia sempre la stessa versione di gradle in maniera uniforme l'unica cosa che io aggiungo è una spunta lì sopra su usa auto import in modo che importi correttamente tutto quello che serve poi premendo next vi chiede la posizione su disco in cui salvare il progetto in una cartella e riempie in automatico il project name prendendolo dall'artifact.id se volete potete cambiarlo ovviamente non c'è problema premendo finish si crea il progetto se avete internet Gradle scarica IntelliJ scarica Gradle e poi tutte le dipendenze nel caso ci siano dipendenze già inserite nel build.gradle quindi quasi tutto il default io non lo ricreo ma parto dal progetto che abbiamo iniziato l'altra volta la volta scorsa abbiamo aggiunto nel build.gradle due dipendenze come implementation quindi come dipendenze che ci servono all'interno del nostro progetto e che non vogliamo tipicamente esporre verso altri progetti uno è Spring Web che contiene tra le altre cose REST template che è una libreria per fare chiamate HTTP REST e che fornisce una serie di utility per gestire le richieste e le risposte di tale chiamate quindi che ha come gruppi di org.spring framework e come artifact.id Spring meno web e l'ultima versione è la 5.1.5 release questo file è già sul repository GitHub che vi ho fatto vedere prima quindi github.com slash reti2 trattino vc slash u trattino java e la seconda libreria che ci serve che in realtà non useremo in questo progetto direttamente ma verrà usata da REST template è JSON che è una libreria realizzata da Google per parsificare e creare del JSON da testo passare a degli oggetti java attraverso questa libreria da degli oggetti java passare a del JSON testuale e questa libreria ha come gruppi di com.google.code.json e come artifact.id json che è il nome del progetto e l'ultima versione è la 2.8.5 inserendo queste due librerie salvando questo file qui sotto dovrebbe comparirvi un tab build dove IntelliJ attraverso Grador scarica queste librerie e fa il build del progetto quindi rende queste librerie il contenuto di queste librerie i package i metodi quant'altro disponibili a il vostro progetto vero e proprio dopodiché l'altra volta abbiamo creato dentro la cartella src java un package che abbiamo chiamato it uniupo reti2 e dentro questo package abbiamo creato un file java che sarà l'unico che ci serve in questo momento che ho chiamato uClient che contiene in questo momento solo il main perché sarà anche l'entry point nel nostro progetto e l'altra volta ci siamo praticamente fermati qui allora quello che dobbiamo fare oggi è impostare questo progetto in modo da interagire con le lampadine facendo che cosa come abbiamo detto accendendole col color loop per 10 secondi e dopo 10 secondi spegnendole tutte quelle collegate in questo caso queste tre oggi queste tre allora partiamo da definire alcune variabili che ovviamente ci servono ci serve l'indirizzo ip e la porta del bridge o dell'emulatore ci serve lo username sia new developer per l'emulatore ossia quello complesso complesso fornitoci l'altra volta dal bridge per accedere e poi ci servirà costruire delle url e ci servirà fare delle chiamate opportune a quelle url quindi partiamo definendo dentro il main la url di base cioè cioè quella url cioè il dominio diciamo l'indirizzo ip con la porta del bridge o dell'emulatore partiamo con l'emulatore così fatemelo solo aprire l'emulatore da quel sito che vi ho elencato nelle slide si scarica ci sono tanti file dentro uno si chiamerà uemulator vari file si chiamano uemulator meno 0.qualcosa l'ultimo è 0.8.jar sono tutti file jar si eseguono come file java questa è l'ultima versione la 0.8 allora l'emulatore lo proviamo a usare a posto del bridge poi cambiamo tutto è sufficiente farlo partire lui parte sulla call host ovviamente sulla porta indicata in alto in questo caso la porta 8000 e in questo momento l'emulatore ha tre lampadine indicate qui sotto quindi la nostra url di base sarà http localhost 2.8000 il nostro username per accedere all'api in questo caso fornita dall'emulatore ma è uguale per il bridge sarà new developer per il bridge bisognerà ovviamente sostituire una porta un indirizzo appropriato e lo username appropriato a questo punto possiamo per esempio costruire la url per le luci a noi servirà a interagire con le luci quindi siccome la dovremmo chiamare almeno due volte una volta per accenderle le lampadine una volta per spegnere le lampadine memorizziamola in una variabile così le riutilizziamo fatemela definire fuori dal main visto che le riutilizzeremo no va bene qui lights url allora come sarà composta questa url delle luci per fare le nostre chiamate rest beh secondo la documentazione per esempio per recuperare tutte le luci occorre fare una chiamata http get all'indirizzo indirizzo del bridge indirizzo dell'emulatore slash api slash username slash lights quindi la nostra lights url sarà composta da base url che abbiamo definito prima più quel pezzo lì dove username sarà lo username che abbiamo definito poco prima e avremo bisogno di fare poi una get su questa quindi questa sarà base url più slash api più username più slash lights componiamo essenzialmente quella url lì utilizzando due variabili in questo caso base url e username in modo che quando vorremo passare dall'emulatore al bridge ci basterà cambiare il contenuto di quelle due variabili e tutto il resto dovrebbe continuare a funzionare ok a questo punto abbiamo preparato quello che ci serve le url che ci servono gli username le chiavi insomma tutto quello che ci serve per poter fare la chiamata adesso facciamo questa chiamata facciamo questa get a questo indirizzo che abbiamo definito allora per fare questa get dobbiamo creare un oggetto che ci permetta di fare le chiamate http noi abbiamo detto che usiamo rest template quindi creiamo un oggetto di rest template l'oggetto di rest template ha come tipo rest template e possiamo chiamarlo rest e lo creiamo lo istanziamo quindi new rest template ok a questo punto cosa dobbiamo fare abbiamo detto che noi vogliamo accendere tutte le luci aspettare 10 secondi col color loop e poi spegnerle ma per accenderle dobbiamo prima di tutto sapere l'id delle luci che abbiamo quanti luci ci sono ce ne sono due ce ne sono 15 hanno id 1, 2, 3 hanno id come abbiamo visto 1, 2, 4 o 1, 3, 4 quello che era dobbiamo sapergli di per poi poter fare effettivamente la chiamata perché ovviamente per cambiare lo stato vi ricordate l'altra volta che abbiamo detto che la Philips Hue ha il concetto di stato quindi uno chiede uno stato nuovo o cambia lo stato effettivo della lampada per cambiare lo stato dovremo poi fare una put a quell'indirizzo dove c'è un light slash id quindi abbiamo bisogno dell'id delle singole luci e fare tante chiamate quante luci abbiamo quindi prima di tutto bisogna fare questa chiamata allora l'oggetto che abbiamo appena creato rest ci offre tutta una serie di metodi get post put eccetera sia in formato diciamo plane quindi semplici metodi rest scusate semplici metodi http in cui bisogna impostare le header in cui viene restituita una stringa o un oggetto generico eccetera o per alcuni metodi tipo il get esistono metodi un pochino più furbi in cui per esempio possiamo automaticamente in un solo colpo invece di avere un oggetto di tipo stringa restituito da una chiamata avere direttamente un oggetto java restituito dalla chiamata convertito da un certo json a quello che abbiamo bisogno noi sappiamo perché lo sappiamo dalla documentazione che la risposta alla nostra richiesta di tutte le luci sarà un json che avrà come chiavi l'id di ogni lampadina e come come chiave come primo termine l'id di la lampadina e poi ogni id di la lampadina avrà a sua volta altri oggetti json uno dentro l'altro quindi avrà questa struttura struttura che ci può ricordare come come io dico erroneamente un un dizionario una mappa chiave valore a noi servono in questo momento sapere quali e quante lampadine abbiamo quindi ci interessano tutte le chiavi di questa ipotetica mappa quindi quello che facciamo è usare il metodo get for object quindi è una get è un http get che in più ci fa questa conversione da una stringa da un testo a degli oggetti java a che cosa dobbiamo fare questa get a lights url quindi il primo parametro è la url a cui fare la richiesta e il secondo parametro è una classe java a cui noi vogliamo che il metodo converta il json risultante dalla risposta e nel nostro caso se la richiesta ha successo noi abbiamo detto che dato che assomiglia a una mappa possiamo per esempio usare una mappa ora questo metodo crea un json senza troppe parsifiche al json in maniera non troppo diciamo di alto livello quindi si trova un qualcosa che assomiglia a una mappa e cerca di convertirlo in una mappa json permette qualche cosa in più rispetto a questa versione che viene utilizzata direttamente da Spring Template per esempio permette di ignorare il fatto che tutto questo sia un unico grosso oggetto senza una chiave all'inizio e quindi prendere direttamente l'oggetto ma per i nostri scopi di adesso a noi interessano quelle chiavi non interessa tutto il resto quindi è sufficiente così a posto di HashMap ovviamente potrebbe esserci una classe creata da voi l'importante è che abbia degli attributi che mappano uno a uno con i nomi degli attributi presenti nel json quindi questa metodo questa chiamata esegue una get http a un dato indirizzo la risposta di quella get viene convertita in una HashMap e quindi di conseguenza dobbiamo ritornare un oggetto di tipo mappa noi sappiamo che le chiavi sono stringhe e in realtà il resto non ci interessa quindi possiamo indicare che sarà una mappa le cui chiavi sono stringhe e il resto fai un po' tu quindi quello che ci vuole inserire lo inserisca se vuole convertirli in oggetti lo converte in oggetti se vuole convertirli in altre mappe lo faccia non ci interessa in questo momento quindi non lo forziamo a niente e questo ci fornisce gli ID del dovrebbe fornirci gli ID di tutte le lampadine collegate al sistema quindi controlliamo innanzitutto che non sia nullo e per esempio stampiamole giusto per vedere quindi facciamo un for per verificare che appunto temporaneamente sia tutto a posto ok? allora eseguiamo questo e vediamo che effettivamente facendo il run lui stampa 1, 2, 3 che nell'emulatore sono gli ID delle tre lampadine e voi non lo vedete ma nell'emulatore si è aggiunta una riga a questa altezza più o meno che è la chiamata che noi abbiamo fatto la URL della get che noi abbiamo fatto quindi qui c'è scritto slash API slash new developer slash lights che è esattamente la get che abbiamo fatto noi man mano che faremo delle chiamate questa parte nera dell'emulatore verrà riempita con le chiamate che facciamo e con eventuali errori che riceviamo nel caso in cui ci siano degli errori quindi è anche un modo per controllare che tutto abbia funzionato ok quindi a questo punto abbiamo tutte le lampadine e per tutte queste vogliamo separatamente accenderle con il color loop allora come si accendono si cambia lo stato abbiamo visto che si fa una put su slash API slash username slash lights slash id slash state e cosa si manda come corpo di quella put si possono mandare tutte queste cose lo stato nuovo on e off l'eventuale brightness l'eventuale saturazione l'eventuale tinta lo spazio di color x y e e gli eventuali effetti dove attualmente non dall'emulatore ma dal bridge sono supportati none e color loop quindi nessun effetto oppure come effetto il color loop e altri valori genereranno un errore quindi per esempio dovremmo generare un json che ha tre coppie quindi in questo caso accende la lampadina on true mette una brightness a 200 e mette una tinta a 50.000 che rappresenterà un certo colore a noi non interessa cambiare un colore specifico ma far partire il color loop quindi vorremmo sicuramente accenderle e se sono già accese semplicemente rimarranno accese far partire il color loop quindi avremo queste due informazioni da far passare quindi scriveremo un json che ha come una chiamata che ha come corpo del json on true e effects color loop essenzialmente quindi siccome la stessa chiamata andrà fatta per le lampadine definiamolo prima del for quindi il nostro body della richiesta che chiamiamo color loop sarà e costruiamo a mano il json sarà un json che ha on due punti true e un come abbiamo detto effect due punti color loop quindi lo costruiamo a mano in questo caso come stringa dove ho dovuto fare il backslash di ogni virgoletta doppia per ovvi motivi a questo punto potremmo invece di stampare le luci fare la chiamata put vera e propria quindi prima di tutto definiamo la url a cui fare la chiamata che sarà composta da lights url più lightcd cioè più light più state dove lights url era tutto quello http localhost .8000 slash api fino a light slash id della lampada che in questo caso è nella variabile light che sarà quella generata ogni giro di for e slash state e poi dovremo fare una put ignoriamo per il momento eventuali messaggi che possono tornarci con esito della put tanto nel nostro caso vediamo o sull'emulatore o sul mondo vero che cosa succede quindi sempre l'oggetto rest c'è un metodo put questa volta non c'è il put for object o una cosa equivalente c'è solo il metodo put che vuole due parametri uno l'api da chiamare e il secondo parametro il body della richiesta put fatemi chiamare in questo momento request questo body è una variabile che non esiste perché voglio creare un'altra variabile e non gli posso passare direttamente color loop potrei passare direttamente color loop l'emulatore non dovrebbe avere problemi a sopportarlo il bridge non ne sono sicuro perché ho bisogno di aggiungere almeno un'informazione a questa stringa color loop e alla chiamata http che facciamo quale informazione http posso aggiungere a una chiamata http questo è il body questa è la url questa è una put quale altre informazioni posso aggiungergli nel header questo che cos'è è un è un json non è un xml non è plain text non è html il formato del body è bene passarglielo alcuni sistemi sono abbastanza furbi da cercare di interpretarlo però se c'è già un header che ti dice guarda il body della tua put sarà un json dall'altra parte leggendo l'header sicuramente si aspetta che il body di quella richiesta avrà su interno un json se l'header fosse stato a xml si aspetterebbe di conseguenza che il body di quella richiesta fosse stato un xml stessa cosa volendo nella risposta se dovete fornire una risposta potete impostare il content type della risposta alla maniera opportuna di cui vi serve quindi qui fuori prima di tutto bisogna creare un http header che è sempre fornito http headers plurale che è sempre fornito da rest template e quindi creiamo un nuovo oggetto che si chiama http headers e impostiamo su questo headers e poi sistemo l'errore e il content type da dove l'ha importato ah sì l'ha importato da posto sbagliato e questo http header non è quello di java utile ma è quello di org spring framework http 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 headers ok a questo punto questo header ha un set content type eccolo qua un set content type che vuole un media type quindi c'è già una costante che si chiama media type punto application json poi avremo la nostra definizione del body e a questo punto possiamo creare quello che serve questa request una http entity che rappresenti la nostra richiesta col body e l'ader quindi http entity di string perché il nostro corpo il nostro body della richiesta sarà una stringa che chiamiamo request e che sarà una nuova http entity costruita con il body color loop e gli header e a questo punto possiamo fare la nostra put quindi riassumo abbiamo creato headers che è una variabile un oggetto che contiene gli header http potenzialmente tutti gli header http che volete abbiamo impostato come header http un content type application perché il nostro body è un json e application json abbiamo poi creato il body effettivo di questa richiesta e abbiamo creato un'entità che guarda caso è uno degli oggetti ammissibili qui sotto in questa put in cui abbiamo inserito l'header che abbiamo appena creato la collezione di header che abbiamo appena creato e il body vero e proprio della richiesta questa variabile la passeremo a ogni chiamata put che faremo una per ogni lampada se noi eseguiamo questo sull'emulatore come vi dicevo a parte che l'emulatore è chiuso ma non si vedono cambiamenti visibili qui però sempre lì nello scritto che non è possibile vedere da voi ci sono le tre richieste che abbiamo fatto quindi API New Developer Lights uno state due state eccetera con in bianco il risultato quindi success sulla luce 1 sulla luce 2 sulla luce 3 quindi la chiamata che abbiamo fatto è stata riconosciuta corretta ed è stata effettuata l'effetto lo vedremo meglio sulle lampadine quindi questo dovrebbe accendere le luci con un color loop il color loop parte dal colore attuale delle luci quindi verde rosso e giallino e cicla verso altri colori la prossima cosa che volevamo fare è aspettare 10 secondi in modo da vedere l'effetto di questo color loop se non lo è davanti all'infinito diciamo e poi spegnerle come si spengono le luci con lo stesso identico metodo che abbiamo utilizzato adesso quindi una put su lightsurl più lightsd più state dove nella richiesta ci sarà scritto off on uguale false perché vogliamo spegnerla quindi come aspettiamo usiamo un metodo semplice per aspettare 10 secondi quindi semplicemente un thread punto slip no con i loro try catch quindi semplicemente per 10 volte aspettiamo un secondo quindi circa aspetteremo 10 secondi nel nostro caso va più che bene e già che siamo qui stampiamo questo conto alla rovescia dopo il quale noi vogliamo spegnere le luci quindi system out print line i pardon 10 meno i quindi acceso le luci con uno slip di un secondo ripetuto 10 volte aspettiamo circa 10 secondi adesso dobbiamo rifare e nella soluzione che vi metto su github non copio incollo il codice come stiamo facendo qui ma vi creo un altro metodo copiamo la parte in alto del codice e la rimettiamo sotto così com'è andando a cambiare il body essenzialmente della richiesta poi come vi dicevo nella soluzione che vi metto su github questa copia incolla viene minimizzato da un metodo che si potrebbe chiamare change state per esempio che riceve un body già che riceve il body nuovo e fa la chiamata put in maniera appropriata però per ora per semplicità semplicemente copiamo questa parte sopra quindi ci serve il nuovo body che al momento è il vecchio ci serve di nuovo questa request e ci serve di nuovo questo for allora questo lo possiamo chiamare off questo oggetto diventa on uguale false invece che on true e fx color loop perché vogliamo solo spegnerle questa richiesta chiamiamola richiesta off avrà sempre gli stessi header di prima tanto comunque ha dentro un json quindi non è necessario ricreare l'oggetto header essendo nello stesso metodo ma ovviamente cambia il body adesso dobbiamo mandare un off e tutto il resto è identico dobbiamo fare sempre una chiamata allo stesso indirizzo e sempre una put dove quello che cambia appunto è questo body che è diventato off e notate che IntelliJ vi segna tutto sottolineato in grigino perché vi dice codice duplicato ne sono consapevole però al momento lasciamolo così per vedere se funziona ok quindi adesso se io eseguo questo e vado di qui arrivano le richieste sul color loop qui parte incontro alla rovescia e a un certo punto queste tre lampadine si dovrebbero spegnere ma in pratica no ah sì giustamente ok non avevo passato il giusto oggetto request gli passavo quello di accensione quindi rieseguiamo loro si accendono col color loop dopo dieci secondi si spengono e questo è visibile e qui nei messaggi viene scritto che ha avuto successo la chiamata lights 1 state on false lights 2 state on false eccetera eccetera per tutte le lampadine ce ne sono solo tre e viene ripetuto tre volte ora avendolo provato sull'emulatore proviamolo sulle lampadine vere dove quello che cambia è essenzialmente che ci servirà questo indirizzo come base url e come username questa lunga username che abbiamo generato l'altra volta il bridge dovrebbe pubblicare sulla porta 80 e lo username è esattamente quello generato l'altra volta che spero nessuno abbia cancellato nel frattempo quindi con questa modifica se noi lo eseguiamo dovremmo vedere un'eccezione non è perché c'è uno spazio ok c'è un color loop vedete che chi è davanti vede che quella è diventata blu sta diventando viola eccetera e dopo 10 secondi si spengono esattamente come si è comportato con l'emulatore se vogliamo rifarlo quella riparte diventa azzurra blu violetto rosso e poi si spengono ok questo effetto del color loop come vi dicevo nell'emulatore non si vede tutto il resto si se noi invece del color loop volessimo per esempio cambiare colore beh qui invece di effects avremmo da scrivere per esempio u uguale 50.000 possiamo provare quindi qui possiamo mettere u e qui la u è un numero 50.000 e rieseguendo il 50.000 è questa specie di viola ovviamente modificando la tinta non viene modificata la luminosità che era precedentemente impostata nella saturazione quindi l'intensità di questo quanto è denso quanto è carico questo colore e subito dopo la pausa che adesso faremo vi cerco un sito una pagina della Philips Hue se ancora c'è che mostra alcuni colori chiave alcuni valori di Hue Saturation e Brightness per impostare alcuni colori chiave il rosso il verde eccetera nel caso in cui per quando vi serviranno ok questo chiude la prima parte sulle Philips Hue e vi cerco quella pagina subito dopo non faremo insieme ma vedremo fatti altri due esempi uno che usa Z-Wave e in particolare proveremo a fare qualcosa con questa spina presa e un altro per le Fitbit ma prima facciamo 10 minuti di pausa